Ciao a tutti, benvenuti in questo video, in questo doppio video. Io sono Gianlucaime, studio alla Facoltà di Scienze Storiche dell'Università di Torino e gestisco il canale di YouTube, Gli Assunti di Storia, e benvenuti anche da parte di Claudia Bellamino, che gestisce il canale a spasso nell'arte. Questo video, questo doppio video, è diviso in due parti. Questo video, che è dedicato all'età di Giustiniano e alle bellezze di Ravenna, io tratterò la parte più storico-politica, invece Claudia tratterà la parte più storico-artistica nella seconda parte del video. E siamo arrivati alla prima parte di questo video. Giustiniano, l'uomo tra i due mondi, infatti è con lui che possiamo datare la fine del mondo antico e l'inizio del Medioevo. Giustiniano, che sale al trono imperiale nel 527, è un ufficiale di lingua latina e proviene dalla regione dell'Illirico e ovviamente diventa imperatore, possiamo dire, romano, di quella parte dell'impero che è rimasta ancora e vive e prospererà ancora per secoli, che è la parte dell'impero orientale. Una piccola curiosità, da questa zona dell'Ellirico abbiamo una grande storia di imperatori, tra i quali ricordiamo Diocleziano e Costantino. Questa regione che stava al confine, in prossimità dell'Imes da Nubiano, ha fornito questi grandi uomini militari, questi grandi uomini d'azione. Come l'ha definito il grande storico Gergo Ostrogoski, spero di non aver sbagliato la pronuncia, possiamo vedere Giustiniano come l'ultimo imperatore romano sul trono bizantino. e questo sempre per il fatto che l'uomo è l'uomo tra i due mondi. Infatti, se è opinione comune che il Medioevo sia questo grande periodo oscuro, fatto di superstizione, di calamità, ebbene, questo grande periodo di Apocalisse possiamo proprio vederlo con l'età di Giustiniano. Infatti, un fatto che ci può sembrare contemporaneo ai nostri tempi, nell'anno del 541-542, arriva la famosa e terribile, la grande peste di Giustiniano. Questa peste che è nata e proveniva dall'Egitto, fece nel corso degli anni, perché si affermò a più riprese, fece un totale tra il 20 e il 30% di morti sulla popolazione totale dell'impero, e non solo, perché arrivò anche nei regni romano-barbarici. A seguito della peste, nello stesso periodo, ci furono anche terremoti, e quindi grandi cataclismi in questo periodo. Dobbiamo comunque essere fiduciosi per i nostri tempi, comunque non abbiamo queste cifre, non abbiamo il 20-30% della popolazione, e ricordiamolo, la popolazione in questo periodo, le persone erano privi delle medicine che noi oggi disponiamo, quindi dobbiamo pensare positivo per il futuro. Ma collegandoci a questo discorso di Apocalisse, i contemporanei di Giustiniano vedevano tutto questo come dovuto a una instabilità religiosa, alle controverse, e questo ha contribuito al formarsi di profonde tensioni sociali e anche, come vedremo in seguito, anche militari, sia dalla parte orientale sia dalla parte occidentale. La grande regia della politica di Giustiniano si sviluppa in tre grandi atti, un tentativo di unificazione religiosa, un tentativo di unificazione del diritto è un tentativo di unificazione politica. Per quanto riguarda il primo atto, unificazione religiosa, siamo nel VI secolo d.C., il cristianesimo si è affermato completamente sia nell'impero romano, sia anche nei regni romano barbarici. Questi saranno un po' più lenti, alcuni il cristianesimo sarà accettato subito, come nel caso dei Franchi, ci sarà un tentativo di comunicazione alquanto stretto nel regno ostrogoto, ci sarà un tentativo, una convivenza, scusatemi, ostile per quanto riguarda il regno dei vandali. Ma tornando a noi, a Giustiniano, anche il cristianesimo è profondamente diviso, non ha superato le controverse del IV e del V secolo. Troviamo un cristianesimo della chiesa nestoriana anche nell'impero persiano, ma dentro l'impero romano, quindi mi riferisco all'impero romano d'Oriente, troviamo delle correnti monofisite in Egitto, le quali daranno vita alla chiesa copta. La chiesa copta che noi oggi troviamo in Etiopia deriva dalla chiesa monofisita dell'Egitto. Ebbene, ma correnti monofisite le troviamo anche in Siria, e quindi qui vediamo l'intento e la volontà di Giustiniano che è il grande uomo, come l'ha definito lo storico Ostrogoschi, è il grande uomo perché porta a Bisanzio l'ultima grande ventata di Romanità. Infatti, secondo lui, la grande tradizione di Roma è l'impero universale, e nel senso secolo d.C. Giustiniano tenta di farlo convivere, di farlo vivere con l'universalismo ortodosso. Questa visione non è sua. Già Costantino aveva fatto vivere del cristianesimo l'intento universale del pensiero romano, dello Stato romano. Quindi vediamo che Giustiniano intenta una politica di compromesso con i suoi famosi editti, con le sue famose novelle teologiche. Da questa politica moderata di compromesso verranno fuori le grandi sedi vescovili della cristianità cattolica di Nicea, che sono la prima in ordine di prestigio, ma non politico, che è Roma, con il Papa, che è semplicemente il primo vescovo, ma si affermano altri grandi vescovi della Chiesa. Primo tra tutti quello di Costantinopoli, e ricordiamo che Costantinopoli è anche la capitale dell'impero romano orientale. Abbiamo anche Antiochia, che sta in Siria, Alessandria d'Egitto, e ovviamente non poteva mancare Gerusalemme. Quindi con questo tentativo di unione tra l'impero e la Chiesa ortodossa prenderà forma di fatto la cultura politico-religiosa, che caratterizzerà tutta quanta la storia bizantina. E se vogliamo, in seguito sarà anche uno dei motivi del veloce sfaldamento di alcune regioni che erano contrarie. Infatti, nella Siria e nell'Egitto vediamo anche l'affermarsi di queste, che possiamo chiamare come Chiese nazionali. Ma per questo argomento ci arriveremo con il nostro terzo atto, Un passo alla volta. Il secondo grande atto della regia di Giustiniano è l'unificazione del diritto, e possiamo ben dire a cuore leggero, sarà l'atto che avrà più durata, che sopravviverà al giudizio sempre severo della storia. Infatti nel diritto che è viva la grande tradizione di Roma, infatti è famoso il suo grande Curpus Ius Civilis, quindi il suo tentativo di recuperare tutta la grande storia del diritto. Questo codice, che è una somma, un resoconto, è anche uno scarto di quelle leggi, di quel diritto che ormai ha perso valore nel VI secolo d.C. Però in questo Curpus troviamo delle leggi che arrivano dalla grande tradizione arcaica dell'età della monarchia di Roma, della grande età repubblicana, e poi di tutto quanto l'età imperiale. Ma perché fa questo? Perché nel diritto romano risiede la grande chiave dell'amministrazione, e quindi si collega a doppio filo con il suo disegno politico di una riconquista e di una riformazione del grande impero. Non mi soffermerò troppo su questi dettagli, perché si può, oltre che non vorrei troppo annoiare, ma i maggiori dettagli li trovate sul mio precedente video, quello riguardante il diritto antico. E ora arriviamo al terzo atto, l'unificazione politica militare. Gli stati romano-barbarici che ufficiosamente, anzi ufficialmente, appartenevano ancora a Roma, ufficiosamente farevano una politica autonoma. Ebbene, Giustiniano tenta di riportarli sotto il controllo dell'impero. È la prima campagna che è la campagna d'Africa. Riconquista l'Africa romana, che era sotto il regno dei Vandali. Manda il suo grande, famosissimo, generare Belisario. Il regno dei Vandali è estremamente facile, questo perché manca la sintesi tra una cultura latina e germanica. Completamente diverso va la riconquista dell'Italia, la famosa guerra gotica, che è durata bensì vent'anni, dal 535 al 554. Questa guerra è lunga ed è sentita anche dagli stessi italici come un tentativo di una conquista straniera. I greci vengono mal visti, parlo appunto di greci, perché i latini dell'Italia non si fidano più di questo popolo che si fa chiamare romano, ma comunque parla il greco. E questo sentimento di sentimento pan o strogoto, se vogliamo, pan italico, con tutte le precauzioni del caso, è dovuto dal grande lungimiranza del re Teodorico, che ha formato questo regno, ha formato una grande sintesi tra i latini, l'amministrazione, e quindi parliamo dei senatori che erano presenti a Roma, che, diciamolo, controllavano le grandi proprietà. Una sintesi tra i latini e l'amministrazione è una sintesi tra i germani, tra gli ostrogoti, che erano il cuore della forza militare. a seguito dei vent'anni di campagna, di guerra, verrà, alla fine l'Italia verrà riconquistata. Vediamo il destino alquanto misero, chi esce veramente sconfitto da questa guerra è proprio la provincia dell'Italia, la quale diventa una semplice provincia governata da funzionari greci, e quindi è lontano il tempo di Roma, Roma che dominava il mondo, dominava il Mediterraneo. l'Italia è diventata una delle tante province e soprattutto è stata indebolita, estermata, vent'anni di guerra hanno distrutto le grandi proprietà, le sue grandi ricchezze, le città sono state saccheggiate e hanno subito le sorti della guerra. L'ultima grande riconquista avviene in Spagna contro il regno dei Visigoti, non riesce a riconquistare totalmente la penisola ibelica, ma riconquista nella parte meridionale le coste sul Mediterraneo e quindi ritorna per questo breve periodo il dominio dell'impero romano sul mare mediterraneo, ritorna a essere la grande autostrada che collega tutte le varie città e tutte le varie città governate sotto Roma e quindi abbiamo un ritorno del Mar Nostrum ma il VI secolo se vogliamo anche il Medioevo è ormai incombente e tutto questo è solamente più un sogno alquanto fragile. Ultime parole sui profondi limiti della rinnovazione imperi di Giustiniano. Il suo sogno farà una fine miserabile e decadente analoga alla fine che farà il suo grande generale Belisario. Primo tra tutti nel VI secolo abbiamo un ritorno dell'espansionismo dell'impero persiano torna a essere aggressivo il quale era stato alquanto dormiente nel IV e nel V secolo e questo aveva dato le forze all'impero romano orientale nel V secolo di resistere alle ondate dei barbari nello stesso tempo nel V secolo quando l'impero romano d'Occidente sta ormai crollando sotto la pressione dei barbari. Ebbene un ritorno di questa pressione avviene nel VI secolo soltanto uno dei successori di Giustiniano paro di Eraclio nel corso all'inizio del VII secolo d.C. porrà fine alla storica e millenaria contrapposizione tra i persiani sassanidi parti questo mondo orientale che trae origine anche dalle grandi civiltà della Mesopotamia e dell'età del bronzo è contrapposto alla grande civiltà e cultura ellenica romana e questo verrà sotto Eraclio ma questo sarà alquanto effimero perché preparerà il terreno per un'altra grande invasione di popoli ma andiamo con ordine un'analogia avviene in Italia la guerra gotica che dura vent'anni mette in ginocchio questa provincia e preparerà ormai l'invasione dei Longobardi gli Ostrogoti erano gli unici che potevano ancora tenere a freno questa ondata di questo popolo in armi effettivamente con i Longobardi abbiamo un'autentica invasione di barbari questi scendono arrivano in Italia saccheggiano dissruggono non riconoscono Roma non hanno neanche un re i loro capi militari si chiamano duchi insomma è la fine del mondo antico è l'inizio del Medioevo ma dalla parte dell'IMES danobiano abbiamo un'altra grande invasione di popoli possiamo dire di popoli proto-europei abbiamo l'invasione del popolo degli slavi e dei bulgari che andranno a insediarsi sui Balcani e fino a noi oggi vediamo i risultati di questa invasione arrivando alla metà del settimo secolo tornando al nostro discorso precedente dell'impero persiano la caduta di questo millenario impero preparerà la grande conquista degli arabi che avviene a metà nel sesto secolo e qui anche il nostro discorso che abbiamo fatto precedentemente per quanto riguarda l'unificazione religiosa vediamo come importanti province le più ricche dell'impero ormai si staccano con una facilità sorprendente parlo dell'Egitto della Siria e questo è dovuto ormai al sentire male non sentirsi più protette non sentirsi più sotto per meglio dire la grande potenza di Costantinopoli e questo è dovuto all'affermarsi di queste chiese nazionali ebbene il nostro discorso si conclude qui alla fine del settimo secolo vediamo ormai l'impero bizantino i suoi territori sono solamente più nei territori della Grecia continentale e dell'Anatolia e quindi Giustiniano l'ultimo imperatore di Roma vediamo che adesso nella fine del settimo secolo ormai l'impero bizantino si chiude completamente nella sua visione di Grecità ebbene si conclude qua questa prima parte sono Gianlucaim e questo è il canale riassunti di storia questa breve chiacchierata è stata fatta da questa lettura Bisanzio di Mario Gallina che ovviamente per parlare di tutta la millenaria storia dell'impero bizantino bisogna partire dalle origini io adesso vi saluto e lascio la parola a Claudio che illustrerà le bellezze di Ravenna ma ricordatevi sempre per vedere le bellezze dell'arte bizantina in Italia andate a Ravenna ma per qualsiasi dubbio dovete sempre recarvi alla pizia di Delphi ciao a tutti e lascio la parola a Claudia e lascio la parola e lascio la parola e lascio la parola